Siamo davvero alla fine della campagna Asparagi 2021. Si sta raccogliendo quelle asparagiaie che sono state dotate di impianto di irrigazione, che magari l'anno scorso hanno prodotto poco e quindi hanno molta energia ancora a disposizione, si sta raccogliendo per andare incontro alle necessità dell'industria di riuscire a chiudere i programmi di produzione, in quanto molti clienti che commercializzano asparagi per il mercato fresco hanno terminato la loro campagna. È il periodo della programmazione delle semi e dei trapianti per il broccolo e il cavolfiore. Purtroppo veniamo da un'annata in cui noi sono avute difficoltà a commercializzare questi ortaggi e quest'anno non è avvenuta la solita chiamata di venditori di semi che è proprio che propongono sempre di acquistare il seme quanto prima in quanto gli stock sono bassi. Per fortuna questa chiamata quest'anno non c'è stata perché i produttori hanno timore di impiantare, è difficile programmare ad un pannate del genere una campagna così lunga. Con i produttori storici che da noi prenotavano le piantine non si sono fatti vivi, tutto tace. Ci sarà la solita campagna in cui all'ultimo momento tutti vogliono programmare e tutti vogliono le piantine. Per quanto riguarda i carciofi, quelli tradizionali sono stati tutti trinciati, i campi che continueranno a vegetare sono già stati irrigati, si vedono i primi carducci, i nuovi impianti vengono messi in atto, sia che questi vengono fatti con il materiale tipico delle nostre zone, ovoli o carducci, oppure si sta già trapiantando. Il carciofo è ilbido da seme. Per quanto riguarda il pomodoro è in uno stato di salute eccellente, con l'andamento climatico piuttosto fresco, poco umido e adesso si comincia ad andare verso il caldo, ci sono dei campi veramente veramente belli. Non ci sono problematiche fitopatologiche, l'unica problematica da curare è la necessità imminente di aumentare i quantitativi di acqua da dare al pomodoro. Vedo troppi campi in cui i conduttori danno lo stesso quantitativo di acqua, nonostante le temperature sono nettamente aumentate negli ultimi giorni. Per i peperoni, monitorando un campo piuttosto grande di circa 12 ettari, ho trovato due piante, dico due, attorno al cui apparato radicale c'erano queste larve che non sono ferretti. Sono riuscito a fare delle fotografie, un piccolo video. Queste immagini non rendono l'idea delle dimensioni che erano veramente infinitesime, più piccole, forse una mina di una matita, una micromina di una matita. Ho girato tutto il campo per trovare altri centrali del genere, non li ho trovati, mi sono sentito un po' con i colleghi sparsi per la Puglia e un collega in particolare ha trovato la stessa situazione sul melanzare al pomodoro nel comune di Policoro. Siamo d'accordo che non sono ferretti, i professori universitari che abbiamo sentito naturalmente vogliono alcune di queste larve per poterle identificare, ma purtroppo nonostante abbia provato altre tre volte a girare tutto l'appezzamento, non ho trovato di nuovo queste larve. Si pensa che siano delle larve che arrivano secondariamente alla morte della pianta, io non la penso così, sono curioso davvero di capire di che cosa si tratta, ma il bello del nostro lavoro è anche questo, scoprire sempre cose nuove, confrontarsi con chi magari ha avuto la stessa esperienza e soprattutto capire che danno possono fare queste larve. Naturalmente essendo, avendole trovate su due piante morte su un appezzamento di 12 ettari, questo non rappresenta un problema o un danno o non rappresenta un motivo valido per andare a effettuare un trattamento, tuttavia è importante monitorare e vedere come evolve questo fenomeno. Le zucchine hanno sofferto le temperature battutine, alcuni giorni si sono arrivate addirittura a 14 gradi, non stanno producendo tanto, addirittura il sottoscritto è arrivato a prescrivere del nitrato ammonico. Io che faccio la lotta all'utilizzo dei nitrati in agricoltura e in questo caso per dare una spinta ho dato del nitrato, in realtà l'ho fatto avendo osservato le previsioni del tempo che mettono caldo nei prossimi giorni fino a tutto il mese di giugno, si è raccolto a giorni alterni finora, ma da lunedì si raccoglierà in tutti i giorni e quindi la spinta del nitrato può aiutare a dare uno sprint alla coltura a produrre un quantitativo maggiore di frutti. Il frumento è in raccolta e le rese sono molto variabili da campo a campo in base ai danni da freddo ottenuti o meno, il prezzo pare sia leggermente in aumento ultimamente ma la campagna è ancora lunga. Le pesco e il bicocco sono in raccolta, molto variabile la produzione, i prezzi sono più o meno alti, sempre in base ai danni da freddo la produzione può essere più o meno abbondante, più o meno di qualità, nessuna problematica, nessuna fitopatologica. La stessa cosa dicasi dell'olivo e in realtà nell'olivo secondo me a discapito di quanto si è visto durante la feritura, questi alberi abbondantemente pieni di fiori, c'è stata una cascola abbondante e sicuramente ci è dovuto anche all'andamento climatico con picchi di temperature in alto che hanno fatto colare i frutticini. Viene ancora presto per tirare le somme, tuttavia essendo le piccole olive nella fase di accrescimento vanno protette con dei trattamenti contro le pidotteri, forse ancora presto per la mosca, comunque va tenuta la situazione sotto controllo e va somministrato, questo è il periodo migliore per somministrare l'uria agli olivi. Per la vita stessa cosa, si stanno ingrossando gli acini, bisogna cominciare a pensare ai trattamenti contro l'orobesia e il trattamento che va fatto in pre chiusura grappolo. Nelle varietà con un grappolo molto serrato è importante andare a coprire, a proteggere il grappolo prima che gli acini si ingrossino e lo chiudano, non permettono l'ingresso delle molecole contro la muffa. C'è una discussione in atto sull'efficacia delle varie molecole, ognuno è meglio che sceglie in base alla propria esperienza, bisogna continuare a trattare contro però uno sparoidio, assolutamente, questa è la fase più pericolosa per lo idio soprattutto, aspettare ancora qualche giorno che cominci il volo della lobesia e mettere in preventivo il pre chiusura grappolo contro la muffacrigia e gli insetti fra qualche giorno. Il consumo dell'acqua è dell'ordine di un milione di metri cubi al giorno, acqua ce n'è tanta, i consumi sono elevati, godiamoci questo caldo e aggiorniamoci a breve.